L'usione dei individui, soprattutto all'interno delle associazioni di volontariato, in questo ambito sia assolutamente fondamentale e credo che sia un attimino diverso rispetto appunto ai dei libri che sono state portate avanti fino ad esso dove la partecipazione vista praticamente come scelta esclusiva per far muovere un mercato, perché se c'è questa scelta non si muove nel mercato e questo secondo me dovrebbe farci molto pensare.